Saranno ascoltati mercoledì mattina nell'interrogatorio di garanzia ad Ancona il fotografo di 72 anni di Genga, il 38enne maceratese, arrestati e accusati di prostituzione minorile, scambio e produzione di materiale pedopornografico. Al più giovane dei due, inoltre, viene anche contestata la violenza sessuale su minore. Avrebbe approfittato della vittima dopo averla fatta ubriacare, quindi in una situazione di minorata difesa. A far luce sulle azioni dei due uomini, le indagini avviate dai carabinieri di Fabriano a metà del 2017. I due, che non sono collegati tra loro, avvicinavano ragazze tra i 14 e i 17 anni con la promessa di farle diventare star del mondo della moda. Si guadagnavano la loro fiducia ritraendo le scatti fotografici all'inizio in lingerie, da sottoporre ad agenzie di modelle, ma poi, con il tempo, le foto diventavano sempre più hot, fino a che le giovani non arrivavano a comparire scatti senza veli o in filmini hard, dietro compensi in denaro, ricariche telefoniche o regali, e quelle immagini diventavano materiale pedopornografico da scambiare su WhatsApp. A dare il via alle indagini dei militari, la denuncia è arrivata dai familiari di una delle giovani vittime, insospettiti dall'insolita disponibilità di denaro della figlia. Già a settembre del 2017, la procura del Tribunale d'Orico aveva provveduto ad aprire il fascicolo di inchiesta tramite una serie di perquisizioni e sequestri di telefonini, computer e hard disk, da cui è emerso il materiale pedopornografico che ha incastrato i due uomini. Il GIP Sonia Piermartini ha disposto per entrambi la misura cautelare agli arresti domiciliari scattati lo scorso 11 gennaio. Nel dossier dei carabinieri risulta infatti che i due avrebbero continuato ad adescare le minorenni anche dopo l'avvio della fase investigativa e dei sequestri avvenuti nel 2017. Accusa, quest'ultima, respinta dall'avvocato Enrico Carmenati, legale del fotografo 72enne. Per quanto riguarda il mio assistito andrebbe tutto sicuramente ridimensionato. Dal 2017, quando ha reso le dichiarazioni, nel settembre 2017, quando ha reso le dichiarazioni ai carabinieri di Fabriano, in poi non ha più commesso fatti penalmente rilevanti. È vero che questo arresto effettivamente è arrivato come un fulmine a Cercerese.